Secondo poi l'altezza ovviamente qui è necessaria quella che è la consulenza che offriamo ovviamente ai nostri clienti, quindi qualora tu trovi qualcosa di tuo interesse sul nostro sito puoi fissare quindi un appuntamento o attraverso, se da lontano ovviamente anche attraverso Whatsapp nella stessa maniera chiariremo ogni tuo dubbio proprio per seguirte e capire se anche questo sistema fit va bene per il tuo stile, per la tua anda più che altro. Poi per il tuo stile vai a scegliere quelle che sono le varie fantasie che troverai tra le nostre proposte. Come ti dicevo per quanto riguarda sempre questo sistema fit quindi si può azionare o se no nel caso in cui si può mettere il sistema fit e sei interessato a questa collanda allora a quel punto dobbiamo fare i fori nell'anda. Ma detto questo adesso ti voglio invece presentare per quanto riguarda l'ultima tra le novità quindi del night and day l'ultima delle novità un attimo che mi metto bene con la telecamera in modo che così ti presento. Ecco qua scusami la perfetto ecco qua vedi come puoi notare queste qua sono night and day, night and day perché come già magari conoscerai in altri diretti ho fatto queste interpretazioni ecco qua vedi come una dapparella tu decidi se filtrare più luce o meno luce ok fino a portarla ovviamente a chiuso. Questo è come se fosse l'anda del tuo vetro quindi anche questo il sistema questo night and day si può mettere nell'anda del vetro si può mettere sopra i lavelli nell'ambiente come il bagno perché questo prodotto qua è un prodotto anti muffa quindi idoreverente resistente e questo fa parte anche delle altre novità. Anche questo si ritrova ovviamente qua con il magnete sotto che va ad attaccare quindi ad ancorare quella che è la nostra tenta a rullo ma qui la particolarità sta proprio in questo sistema qua chiamato plus ok che consente a sua volta di poter far funzionare sia il night and day perché è un tessuto ovviamente che conoscerai se hai avuto modo di poter valutare questo che essendo in due ti fa scusare e scendere come una serranta grazie al gioco della fantasia a fasce orizzontali. Quindi come ti dicevo questo sistema qua si aggancia con un semplice clip quindi all'interno quindi c'è un clip tranquillamente basta si fa un pochettino leva e si sgancia facilmente si aggancia facilmente e questo vale come ti dicevo per le nostre ante a vetro quindi per le nostre ante a vetro possiamo anche scegliere tra la tenta che ti ho fatto vedere poco fa possiamo scegliere queste le night and day disponibili in quattro colori quindi che sono col bianco il beige il grigio e il tortora il tortora sarebbe questo che stai vedendo qua esposto ok e che è anche questo col sistema ovviamente calamitato sotto perché permette alle ante battenti qualora ovviamente il tessuto non vendola sotto e questo ovviamente ti permette di avere diciamo un'ottima estetica sia qualora l'anda è a battenti sia qualora l'anda sia aperta molto pratica perché nello stesso tempo tu non devi spostare una venta per uscire e entrare a seconda se siamo in una cucina quindi in un ambiente abbastanza pratico ma soprattutto essendo idolo reperlente la cosa bella è che essendo antimuffo quindi non ti crea muffo neanche negli ambienti come il bagno che dove ci sarebbe anche dell'umidità o per le finestre sopra il lavello della cucina che spesso li troviamo collocate là quindi questa night and day poi tranquillamente insieme a poi tutti i tessuti idolo reperlenti che sono disponibili dalle nostre proposte indicati proprio per l'ambiente dove gli schizzi d'acqua o comunque le macchie sono più frequenti. Tra tutte le novità quindi tra le più particolari le più innovative ecco quello che in un certo senso la ciliegina sulla torta di questo periodo qua abbiamo visto poco fa il comando manuale come questo qua è un comando manuale quindi con catenella che può essere in PVC cioè in plastica e cordoncino o in nickel che può essere anche o dorata o in acciaio satinato in ogni caso tra le novità in assoluto Grazie a tutti! Grazie a tutti!